Alla fine sono serviti calci di rigore al Bitonto per espugnare per la seconda volta Casarano in dieci giorni. La vince dal dischetto la squadra di De Luca dopo una partita piuttosto brutta con i Salentini che hanno avuto la grandissima occasione di chiuderla con Gianmarco Rizzo. 0-0 al termine dei 90 minuti, sono serviti i rigori quindi per decidere. Entrambi gli allenatori schierano le seconde linee e pochi titolari in campo. La cronaca è spoglia, al diciannovesimo la prima conclusione del match è di Montinaro, para bene d'Ancona. Al ventiquattresimo la risposta del Casarano è tutta in un calcio di punizione di Meduri, è pericoloso il tiro ma si perde sul fondo di un non nulla. Al quarantaduesimo ancora il Bitonto sugli scudi, questa volta è Piarulli a farsi vedere dall'altra parte, deviazione e calcio d'angolo. Nella ripresa entra Montoglia tra i Salentini, sarà decisivo i calci di rigore pur senza riuscire a incanalare la partita. Al ventunesimo chiesto un calcio di rigore proprio dal Casarano per un presunto tocco di mano in area di rigore. Al trentatreesimo ci prova l'ex Brindisi Saddancora, un altro dei calciatori utilizzati ma fin qui poco usati da De Luca, la palla si perde sul fondo. Al trentanovesimo la più grande occasione della partita nei 90 minuti è proprio del Casarano. Sant'Arcangelo arriva sotto misura, Martellone riesce a parare come può. Calci di rigore, dagli undici metri il Bitonto va in vantaggio quando sbaglia Tedesco, poi sbaglia anche Guadaluppi. A oltranza errori di Rimoli e di Rizzo che fallisce il match poi, Greco prende la traversa e il Bitonto va avanti. Grazie a tutti.